Gli amici di Scelguarezzo e di Conarezzo che ieri sera si sono ritrovati in maniera democratica, assembleare e congiuntamente hanno deciso, ovviamente insieme al sottoscritto, di non esprimere una preferenza per il prossimo ballottaggio. Così Marco Donati in una diretta video sulla sua pagina Facebook ha chiarito la sua posizione e quella delle due liste che hanno appoggiato la sua candidatura Scelguarezzo e Conarezzo con le quali l'ex deputato PD aveva ottenuto al primo turno il 9% dei voti. Non ci sarà dunque nessuna indicazione di voto né per il sindaco scente Alessandro Ghinelli né per il candidato di centro-sinistra Luciano Ralli. Non avremmo accontentato tutti neanche con questa posizione, ma chiedo di rispettarla in quanto posizione limpida, trasparente e gestita democraticamente con gli amici che ci hanno aiutato in questo percorso. Negli ultimi giorni Donati, che si era già espresso pubblicamente annunciando disinteresse verso nomine giunta o partecipate, aveva incontrato entrambi i candidati al sindaco e infine la decisione di non dare indicazioni di voto maturata ieri sera durante un'assemblea con le due liste civiche. C'è stato chiesto un incontro dal candidato del centro-sinistra, il dottor Luciano Ralli e dal sindaco attuale, il candidato del centro-destra, l'ingegner Alessandro Ghinelli. Nei due incontri che abbiamo affrontato con delle delegazioni rispettive abbiamo provato a dire che per noi c'erano dei temi prioritari. I candidati sindaco entrambi si sono dichiarati favorevoli a tenere in considerazione le nostre proposte. Oggi monitoreremo che l'impegno che è stato preso a tenere in considerazione le nostre posizioni varrà in Consiglio Comunale quando reciprocamente ciascuna delle due coalizioni che oggi si confrontano al ballottaggio avranno i ruoli di maggioranza e di opposizione. Quindi spero che quando presenteremo delle istanze sui temi che abbiamo sottolineato ci sarà un supporto nel Consiglio Comunale. Le liste adesso si fonderanno in un'organizzazione dal nome Scelguarezzo, aprendosi a chiunque voglia partecipare. Ci invitiamo tutti coloro che hanno voglia di dire la propria in questa città di dare un contributo. Contributo che può essere fattivo in tanti modi, di partecipazione, di dare un'idea progettuale, di portare la propria esperienza di positiva o di difficoltà perché un cittadino può rivolgersi alla politica perché vive una difficoltà e quindi necessita di una risposta. Noi crediamo di poter essere uno spazio aperto per questa città. Lo dico con grande semplicità, lo abbiamo fatto in questa campagna elettorale, lo faremo nei prossimi mesi.